E adesso parliamo di tempo perché domenica è previsto il vero caldo a Bolzano tra le città italiane con le massime da record e non è escluso che si possa arrivare addirittura a quota 37 gradi. Vediamo. Arriva luglio, prepariamoci al gran caldo. Secondo i meteorologi domenica prossima, 4 luglio, l'anticiclone delle Azzorre lascerà il posto a quello nordafricano, il quale, oltre ad assicurare tempo bello e soleggiato, è sempre foriero di ondate di caldo intenso perché la calura viene esaltata dall'arrivo di correnti molto calde provenienti dal bordo settentrionale del Sahara. Le temperature diventeranno roventi, specie al centro nord, dove la colonnina di Mercurio supererà i 34 gradi. Quello attuale dunque è da considerare un caldo ancora sopportabile rispetto a quello che ci aspetta perché le temperature massime giornaliere oscillano intorno ai 28 o 31 gradi con qualche rara punta di 33 gradi sulle solite città calde come Firenze, Perugia e Bolzano e tali resteranno fino a sabato 3 luglio. Insomma, per ora, temperature quasi normali. Se si considera che i valori medi climatici delle temperature massime per la prima decade di luglio in Italia sono intorno ai 29 gradi. Il caldo torrido però arriverà da domenica prossima, quando in alcune zone d'Italia si raggiungeranno i 36-37 gradi. Poi, intorno alle 7-8 di luglio, la calura verrà probabilmente un po' smorzata al centro nord, seppure temporaneamente, dai temporali portati dal passaggio di una perturbazione atlantica. Insomma, meglio assicurarsi che i ventilatori e i condizionatori siano in perfetta efficienza, mentre i gestori dei Lidi si fregano le mani in previsione di giornate da tutto esaurito, che garantiranno di recuperare alla grande ai 10 giorni di freddo di metà giugno e con le strutture altoatesine che saranno invariabilmente prese d'assalto alla faccia dell'aumento dei prezzi.